Con questo tutorial vediamo degli esempi sull'iperbole traslata. Partiamo da questo caso. Determina l'equazione dell'iperbole ottenuta dall'iperbole che ha questa equazione mediante la traslazione di vettore v, 1, meno 1. Rappresenta graficamente le curve. Per risolvere questo esercizio dobbiamo ricordare la formula di traslazione. Dato un vettore v di componenti a, b, le nuove coordinate x' e y' si ottengono andando a scrivere x più a e y più b. Nel nostro caso il vettore traslazione ha componenti 1, meno 1 e allora applicando questa formula al posto di a andiamo a scrivere 1, al posto di b andiamo a scrivere meno 1. Ora a partire da questo sistema esplicitiamo il valore di x e il valore di y. Ed ora andiamo a sostituire nell'iperbole al posto di x e al posto di y queste nuove coordinate, ottenendo in questo modo l'equazione dell'iperbole traslata. Sviluppiamo ora questi due quadrati di binomio e andiamo a fare il minimo comune multiplo per andare a scrivere questa equazione in forma canonica. Dopo aver fatto il minimo comune multiplo possiamo semplificare i denominatori e porto poi il meno 36 a sinistra, ottenendo in questo modo l'equazione scritta in forma canonica. Andiamo ora a rappresentare graficamente le due curve. In nero abbiamo disegnato l'iperbole di partenza, abbiamo poi rappresentato il vettore v di componenti 1, meno 1 ed in rosso abbiamo disegnato l'iperbole traslata. Scrivi l'equazione dell'iperbole ottenuta dall'iperbole che ha questa equazione mediante la traslazione del vettore v di componenti meno 2 e 1 rappresenta graficamente le curve. Nel nostro caso il vettore di componenti AB è il seguente, cioè il vettore meno 2 e 1. E allora la formula di traslazione si ottiene andando a sostituire al posto di A e di B il valore meno 2 ed 1. A partire da questo sistema esplicitiamo il valore di x e il valore di y. Ed ora andiamo a sostituire questi valori al posto di x e al posto di y. Otteniamo in questo modo l'equazione dell'iperbole traslata di questo vettore. Sviluppiamo ora i calcoli e andiamo a riscrivere l'iperbole in forma canonica. Dopo aver fatto il minimo comune multiplo, semplifichiamo i denominatori e semplifichiamo questo 4 con il 4 a destra. Otteniamo in questo modo l'equazione dell'iperbole traslata scritta in forma canonica. Andiamo ora a rappresentare le due iperboli. In figura, con il tratto nero, abbiamo rappresentato l'iperbole di partenza. Abbiamo poi rappresentato il vettore v di componenti meno 2 e 1 ed in rosso l'equazione dell'iperbole traslata. Scrivi l'equazione dell'iperbole ottenuta da quella di equazione 2x quadro meno y quadro più 4 uguale a 0, mediante la traslazione che fa corrispondere l'origine degli assi al punto O' 3-1. Rappresenta i grafici delle due curve e determina le coordinate dei fuochi e le equazioni degli asintoti dell'iperbole traslata. In questo caso, il vettore traslazione v ha componenti 3-1. Nella formula della traslazione, al posto di A e al posto di B, sostituiamo 3 e meno 1. Esplicitiamo ora il valore di x e il valore di y e poi andiamo a sostituire in questa equazione. Al posto di x vado a scrivere x' meno 3 e poi elevo al quadrato. Al posto di y vado a scrivere y' più 1 e poi elevo al quadrato. Sviluppo ora questi due quadrati e riscrivo l'equazione dell'iperbole in forma canonica, ottenendo in questo modo tale equazione. Voglio ora andare a determinare le coordinate dei fuochi e le equazioni degli asintoti dell'iperbole traslata. L'idea che si può applicare la seguente. Vado a calcolare i fuochi e le equazioni degli asintoti dell'iperbole di partenza e poi vi applico tale traslazione. Per far questo, la prima cosa che devo fare è riscrivere l'equazione dell'iperbole in forma canonica. Porto il 4 a destra e poi divido tutti e tre i termini per 4. Da questa equazione deduciamo che il valore di A quadro è pari a 2 e il valore di B quadro è pari a 4. Ricordando che C, ossia la semidistanza focale, è uguale alla radice quadrata di A quadro più B quadro, allora sarà sufficiente scrivere radice quadrata di 2 più 4, ottenendo radice di 6. Allora i due fuochi avranno tali coordinate 0 radice di 6, 0 e meno radice di 6. Applico a questi due punti tale traslazione, dove al posto di x vado a sostituire 0 e al posto di y vado a sostituire una volta radice di 6 ed una volta meno radice di 6, ottenendo in questo modo le coordinate dei fuochi dell'iperbole traslata. Vado ora a determinare gli asintoti e farò la stessa cosa. Determino gli asintoti dell'iperbole di partenza e poi vi applico tale traslazione. Ricordiamo che la formula degli asintoti è la seguente, y uguale più o meno B su A per x. Nel nostro caso B è pari alla radice di 4, ossia 2, A è pari alla radice di 2. Razionalizzando e poi semplificando si ottiene che gli asintoti dell'equazione dell'iperbole di partenza sono y uguale più o meno radice di 2x. Applico ora le rette y uguale più o meno radice di 2x. Tale traslazione. Al posto di y vado a sostituire con y' più 1. Al posto di x vado a sostituire con x' meno 3. E allora al posto di y ho scritto y' più 1. Al posto di x ho scritto x' meno 3. Eseguo ora questa moltiplicazione. Più o meno radice di 2 per x' scrivo più o meno radice di 2 per x' più o meno radice di 2 per meno 3. Vado a scrivere meno più 3 radice di 2. Ed infine porto l'1 a destra scrivendo meno 1. L'ultima cosa che mi resta da fare è rappresentare le due equazioni, ossia l'equazione di quest'iperbole e l'equazione di quest'iperbole. In figura, in nero, ho rappresentato l'iperbole di partenza. Ho anche rappresentato i suoi asintoti e i suoi due fuochi. Ho poi rappresentato il vettore traslazione di componenti 3 meno 1, che è il seguente, e poi ho disegnato l'iperbole che ha questa equazione. Anche in questo caso ho rappresentato gli asintoti e i fuochi. Trova l'iperbole immagine dell'iperbole di equazione x² fratto 4 meno y² fratto 5 uguale a 1 nella traslazione che fa corrispondere al fuoco di ascissa positiva il punto meno 1 meno 1. A partire dall'equazione dell'iperbole conosciamo il valore di a² e il valore di b², ossia a² uguale a 4 e b² uguale a 5. Applicando la formula per andare a determinare la semidistanza focale c, andiamo a scrivere la radice quadrata di a² più b², ossia a4 più 5. La radice di 9 è pari a 3. Scriviamo poi il fuoco che ha ascissa positiva e allora il fuoco che ha ascissa positiva è il seguente, 3, 0. Sappiamo che tale fuoco corrisponde, secondo una traslazione, al fuoco di coordinate meno 1 meno 1. Lo scopo è andare a determinare il vettore traslazione a b, con cui poi posso andare a scrivere l'iperbole traslata. Per far questo applicherò le formule della traslazione. x' corrisponde a meno 1, x corrisponde a 3, y' corrisponde a meno 1, y corrisponde a 0. Esplicitando il valore di a nella prima equazione e il valore di b nella seconda equazione, otteniamo meno 4 e meno 1. E allora il vettore traslazione. E allora il vettore traslazione a queste componenti. In questo sistema, al posto di a e di b, sostituisco meno 4 e meno 1 ed esplicito x dalla prima equazione ed y dalla seconda equazione. Sostituisco ora, nell'equazione dell'iperbole di partenza, al posto di x, metto x' più 4 e al posto di y vado a mettere y' più 1. In questo modo ottengo l'iperbole traslata di tale vettore. Vado ora a riscrivere questa equazione in forma canonica, ottenendo tale equazione. Vediamo quest'ultimo esempio. Una traslazione di vettore v a b fa corrispondere l'origine del sistema di riferimento al vertice reale di ascissa maggiore dell'iperbole che ha questa equazione. Determina le componenti del vettore e l'equazione dell'iperbole traslata. A partire dall'equazione di quest'iperbole sappiamo che il valore di a quadro è pari a 9. Estraendo la radice quadrata otteniamo 3 e meno 3. I vertici reali allora saranno i seguenti, questo perché a destra qui c'è un 1 e quindi i fuochi si trovano sull'asse delle x. Sappiamo ora che vi è una traslazione che fa corrispondere l'origine del sistema degli assi, ossia il punto 0,0 con il vertice 3,0. Lo scopo è andare a determinare quanto vale il vettore traslazione e allora possiamo utilizzare le formule della traslazione. Al posto di x e al posto di y vado sostituire 0 e 0. Al posto di x primo e di y primo vado a sostituire 3 e 0. In questo modo riesco a determinare i valori di a e di b e in particolare a vale 3 e b vale 0 e allora il vettore traslazione ha componenti 3 e 0. Andiamo ora a traslare l'iperbole che ha questa equazione di tale vettore. Utilizzando questa formula al posto di a vado a sostituire 3, al posto di b sostituisco 0 ed ora esplicito il valore di x e di y. Vado a sostituire queste due quantità al posto di x ed al posto di y. Ottenendo in questo modo l'equazione dell'iperbole traslata. Vado ora a sviluppare i calcoli per riscrivere questa equazione in forma canonica. Dopo aver sviluppato i due quadrati di binomio e fatto il minimo comune multiplo vado a semplificare i denominatori. Osservo che posso semplificare anche 225 con 225. Quello che ottengo è l'equazione dell'iperbole traslata scritta in forma canonica. E con questo termino il tutorial sull'iperbole traslata.